Non ho mai potuto essere d'accordo con Freud sull'idea che il sogno sia una facciata dietro il quale si nasconde il suo significato, un significato già noto ma malignamente per così dire sottratto alla coscienza. Secondo me i sogni sono natura che non ha intenzioni ingannatrici ma esprime qualcosa come meglio può, così come una pianta cresce o un animale cerca il suo cibo come meglio posso. La mia casa aveva una grande alannessa nella quale non era ancora mai stato. Mi risolvevo ad andarci e finalmente vi entravo. Giungevo a una grande porta due battenti. L'aprivo e mi trovavo in una stanza dove era installato un laboratorio. Di rimpetto alla finestra vi era un tavolo pieno di molti vasi di vetro e di tutte le dotazioni di un laboratorio zoologico. Era la stanza da lavoro di mio padre ma egli non c'era. Alle pareti vi erano scaffali contenenti centinaia di recipienti di vetro con dentro ogni specie immaginabile di pesci. Ero smalordito. Così adesso mio padre si occupa di teologia. Questo che abbiamo appena ascoltato è un sogno. È un sogno di Jung che lui stesso trascrive nella sua autobiografia. Quel ricordi, sogni, riflessioni scritto dopo gli 80 anni e finito pochi giorni prima della morte. Un testo che a buon diritto possiamo definire l'unico caso clinico che il grande Zurichese abbia mai trascritto in forma di racconto. Il suo caso clinico. Infatti a differenza di Freud che ci ha lasciato almeno cinque casi clinici. Cinque casi clinici leggibili come degli appassionanti racconti polizieschi. Jung invece non ci ha lasciato nessun caso clinico che possa essere riportato a illustrazione del suo particolare punto di vista in seno allo sviluppo della psicologia del profondo. Ecco e questo nonostante che i suoi scritti siano costellati di riferimenti clinici. Stando lì e guardandoli intorno notavo una tenda che di tanto in tanto ondeggiava come se soffiasse un forte vento. Improvvisamente appariva Hans un giovane campagnolo e gli dicevo di andare a vedere se fosse aperta una finestra nella stanza dietro la tenda. Andava trattenendosi un certo tempo e quando ritornava gli leggevo un'espressione di terrore sul viso. Diceva soltanto, sì c'è qualcosa, ci sono gli spiriti. Allora andavo io stesso e trovavo una porta che conduceva nella camera di mia madre. Non c'era nessuno. L'atmosfera era inquietante. La stanza era molto grande e sospesa al soffitto c'erano due file di cinque casette ciascuna a circa due piedi dal movimento. Sembravano piccole casette da giardino di circa due metri quadrati di superficie e ognuna conteneva due letti. Capito che questa era la stanza dove mia madre, che in realtà era morta da molto tempo, era visitata dagli spiriti e che aveva preparato questi letti perché essi vi dormisse. Erano spiriti che giungevano a coppie, coppie di sposi spettrali per così dire, che vi trascorrevano la notte o anche un giorno. Di fronte alla stanza di mia madre c'era una porta. L'aprivo ed entravo in una vasta sala che mi ricordava la volta di un grande albergo. Era arredata con poltrone, tavolini, colonne e tutto il fasto solito in un simile luogo. Una banda di ottoni suonava rumorosamente. Avevo sempre sentito la musica sullo sfondo, ma senza sapere da dove proveniva. Nella hall non vi era nessuno, eccetto la banda, che suonava motivi di danza e di marce. Questo è dunque il sogno, uno dei tanti che Jung trascrive nella sua autobiografia. Siamo alla fine di un periodo approssimativamente collocato fra il 1912 e il 1922, un periodo che Jung definisce un periodo terribile, solitudine, insomma parole sue, di intensissimo confronto con l'inconscio. E infatti a confronto con l'inconscio è il titolo del capitolo dell'autobiografia da cui questo sogno è tratto. Nel 1913 Jung ha portato a compimento il suo divorzio scientifico da Freud. Il tema dello sconto definitivo è sul concetto di libido o energia psichica, che poi avremo modo di vederlo più chiaramente. In realtà la scissione tra questi due personaggi era inevitabile, si stava preparando da molto tempo. Jung tende sempre più chiaramente a questo punto verso una metapsicologia, qualcosa destinato a renderlo capace di avvicinarsi agli elementi strutturali, archetipici della psiche. E poi c'è un altro fatto, come scriverà proprio nei suoi ricordi autobiografici. Lui scrive, la mia vita è la storia di un'autorealizzazione dell'inconscio. Come a dire, dovevo andare per la mia strada e non seguire quella del padre. E veramente per Jung rompere con Freud significa fare i conti con il padre. Ma ritorniamo al sogno e a quella banda degli ottoni che irrompe improvvisamente. Di fronte alla stanza di mia madre c'era una porta ed entravo in una vasta sala che mi ricordava la oltre un grande albergo. Era arredata con poltrone, tavolini, colonne e tutto il fasto solito in un simile luogo. Una banda di ottoni suonava rumorosamente. Avevo sempre sentito la musica sullo sfondo, ma senza sapere da dove proveniva. Nella ora non vi era nessuno, eccetto la banda che suonava mitili di danza e di marce. La banda degli ottoni nella hall allude ad un'ostentata gaiezza e mondanità. Nessuno avrebbe sospettato che dietro questa chiassosa facciata ci fosse l'altro mondo, proprio nello stesso edificio. La hall del sogno era, per così dire, una caricatura della mia buonomia o giovanità montana. Ma questo era solo l'aspetto esteriore. Dietro si nascondeva qualcosa di ben diverso, che non poteva essere indagato con il fragore della banda. Il laboratorio dei pesci e le casette sospese degli spiriti. Erano entrambi dei posti impressionanti, nei quali dominava un misterioso silenzio. Avevo la sensazione che Evie fosse il regno della notte, mentre la hall rappresentava il mondo della luce del giorno con la sua superficiale mondanità. A proposito delle casette sospese nella stanza della madre, Jung si ricorda di aver visto in Kenya, e lo mette in nota questo sogno, delle cosiddette trappole per gli spiriti, che sono delle piccole casette, in cui la gente colloca dei piccoli letti e mette cibo. Ecco, nella trappola degli spiriti, gli spiriti, secondo la credenza, trascorrono la notte, per tornare poi prima dell'alba nel bosco di bambù, che è la loro vera dimora. Le immagini più importanti nel sogno erano la stanza di soggiorno degli spiriti e il laboratorio dei pesci. La prima esprimeva, in un modo piuttosto farsesco, la coniunzio. Il secondo indicava il mio pensiero rivolto al Cristo, che è egli stesso il pesce, ictus. Si trattava di due argomenti intorno ai quali mi sarei affaticato per più di un decennio. È da notare che l'affaccendarsi con i pesci era attribuito a mio padre. Nel sogno egli era un curatore di anime cristiane, che secondo l'antica tradizione sono i pesci presi nella rete di Pietro. È anche degno di nota che nel sogno mia madre apparisse come custode di anime dei defunti. Così tutti e due, i miei genitori, apparivano incaricati della cura animarum, che in effetti era veramente compito mio. Qualcosa era rimasto incompleto e perciò si trovava ancora latente nell'inconscio e quindi riservato per il futuro. Infatti non avevo ancora assolto il compito principale dell'alchimia, la coniunzio. E così non avevo risposto alla domanda che l'anima cristiana mi poneva. Questo è l'inizio di un breve commento di Jung al proprio sogno che troviamo in questo suo testo autobiografico. Il ricordo di mio padre è quello di un uomo che soffre, colpito da una ferita come Amfortas, un re pescatore, la cui ferita non voleva guarire. La sofferenza cristiana per la quale gli alchimisti cercavano la panacea. Io, come un folle Parsifal, ero il testimone di questa malattia negli anni dell'infanzia. E come Parsifal mi mancava la parola. Avevo solo delle vaghe intuizioni.